Onorevole Zampa, l'Austria ha annunciato che dal 1 febbraio introdurrà l'obbligo vaccinale, dal lunedì tutto il paese va in lockdown, da noi l'Istituto Superiore di Sanità e anche il Ministro Speranza sono sempre più preoccupati per questo costante aumento dei contagi. Lei esclude l'obbligo vaccinale anche in Italia e come intendete rafforzare il Green Pass, cosa che vi chiedono a gran voce i Presidenti delle Regioni? Guardi, l'obbligo vaccinale non è mai stato escluso perché sull'orizzonte si è sempre tenuta aperta questa possibilità, in gran parte peraltro già attuato per alcune categorie a cominciare dai sanitari. Penso che certamente i primi a cui estenderla debbano essere tutti coloro che sono a contatto con il pubblico se si dovesse andare in quella direzione. Quanto al Green Pass, il dibattito è in corso, il Governo non ha ancora maturato un orientamento, incontrerà i Presidenti di Regione che stanno tutti chiedendo a gran voce una revisione di questo straordinario strumento, occorrerà capire quali sono le misure su cui intervenire, cioè cosa cambiare se per esempio ridurre il tempo del tampone... Mi scusi, onorevole Zampa, mi scusi, poi ci torniamo. Quindi lei sull'obbligo vaccinale non esclude che il Governo possa anche introdurlo? Non è mai stato escluso e non è escluso, tantomeno escluso ora, nel senso che saranno davvero i dati a guidare il decisore politico in questa direzione. Va bene, allora aspetti che faccio...